Tragico infortunio sul lavoro questa mattina verso le 9 sulla tratta della linea ferroviaria Bologna-Piacenza all'altezza di Fiorenzuola. Un operaio di 59 anni che stava eseguendo alcuni lavori è stato investito da un convoglio in transito. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, a bordo dell'elisoccorso, l'auto infermieristica e la Croce Rossa di Cadeo, oltre all'autorità giudiziaria per i rilievi. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo. La linea ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di soccorso. Poco dopo le 10 la circolazione è stata riattivata su un solo binario, senso unico alternato, tra Piacenza e Fiorenzuola. Verso mezzogiorno la circolazione ha ricominciato lentamente a tornare alla normalità. 14 treni coinvolti, due frecce e cinque regionali hanno registrato ritardi tra i 30 e gli 80 minuti e sette regionali sono stati cancellati per parte del percorso. Per superire alla chiusura della tratta, Trenitalia ha temporaneamente istituito un servizio di autobus tra Parma e Piacenza, confermate intermedie a Fidenza e Fiorenzuola. Nessuna ripercussione invece è stata registrata sul servizio dell'alta velocità Bologna-Milano.